Ciao a tutti e buona vista al vostro cartonello della Peña, al buone spintosa di Andiago Bustera e Spagnolo A cui che vi si parli di allegria Benvenuti in un nuovissimo video Formazioni ufficiali Frosinone Lazio 3-5-2 Frosinone in porta a Bardi Difesa a Brighenti, a Riaudo Capuano A centrocampo Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, Delia In attacco Ciano e Dardemagni In porta per Lazio c'è il 3-5-2 Con Stracossa, Luis Filippa, Cerbi, Radu Lazzari, Parolo, Lucas Leiva Akpa, Akpro, Chigline, Correa e Ciro A mobile, immobile Grandi ragazzi Vedete che... Allora facciamo così Mettete mi piace a questo video così Vi dirò il mio pronostico ufficiale della Serie A 2020-2021 la classifica A presto Mettete un bel po' di mi piace A posto le vostre informazioni So quelle di... La partita alle 6 Da vostro accettario La Peña Albana e Spindosa Di Andriaco con Bustare Spagnol Eeeeeee Uuuuuh Che vi si parli di Allegri e buon apri